18 giugno siamo a Catania, questo è l'ingresso del teatro ABC, è stata organizzata dal gruppo Ciancio il primo confronto tra i candidati presidente della regione Sicilia. E' stato escluso il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e in questo momento vediamo Mariano Ferro, leader dei Forconi, che si affaccia all'ingresso del teatro e subito viene contestato dai grillini dell'Etna. Noi non ci mentiamo! Noi non ci mentiamo! Massone! Massone! In questo momento è anche arrivato il candidato del PDM, Nello Mosmeci, l'ex presidente della provincia di Catania. Massone è venuto! Massone! Massone! Giancarlo può partecipare o no? Vigliamo più voti se non veniamo! Il popolo deve entrare! Massone! All'uscire! Il popolo dentro! Il popolo nelle istituzioni deve entrare! Massone! 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 La campionata di un posto Andiamo con il posto Andiamo con il posto Vai da cagare